Oh oh! Operazioni Cieli di Fuoco, ci siamo! Stavo girando tra le varie modalità e apparsa la modalità dell'evento, nonostante mancano ancora 22 minuti, ma mi raccomando, iscriviti al canale con la campanellina attiva e all'interno del negozio oggetti, non so oggi che cosa succederà, perché io ovviamente sto registrando questo video la sera prima, quindi ieri sera, non so se possiamo giocare oggi che è lunedì, oppure ci sarà un giorno di stop. Comunque voi mi raccomando, all'interno del negozio oggetti, il codice più fresco del centro Italia, R4SCO. Sono straagitato perché non vedo l'ora di andare a vedere questo megaevento, entriamo all'interno della modalità dove penso sia si è chiaramente potere pannocchia con tutte le bombette della signorina Sloan che sono belle agganciate. Ci siamo, manca quasi, sì, meno di 15 secondi, andiamo a vedere come sarà la fine di questa season 7, finalmente ce l'abbiamo fatta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, si parte, ok, ok, signori siamo in gioco, signori siamo in gioco, Epic non mi laggare, fammi vedere l'evento, fai la brava, fai la brava. Ci siamo ufficiale, è uscito, ok, ok ci siamo, tenetevi forte, ok gli alieni sicuramente ora ci rapiscono, è tutto secondo il piano della dottoressa Sloan che ci devono rapire con le bombe. Io credo proprio che sarà un evento interattivo dove dobbiamo fare cose, credo, visto che gli ultimi eventi sono stati così e a me sono piaciuti molto di più rispetto di quelli normali, classici. Questo era un evento che sta durando tantissimo, ma quant'è che ci rapiscono? Occhio, ok, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo, l'evento finale è appena iniziato. Sicuramente andremo all'interno della nave madre, ok, siamo all'interno della nave madre, tutto bene, tutto secondo i piani e se vi ricordate inizio esperimento, ok, è come se siamo, come se stiamo giocando tranquillamente. Occhio, abbiamo un minuto, ma non mi dire che ci fanno davvero giocare normalmente, oh no, 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 c'è qualcosa di strano. E ci sono truppe ovunque, forse ci hanno scoperto. Ho trovato la sala dei rapimenti con le bombe. Una volta passata questa pattuglia ti porterò fuori di lì. Ok, non è affatto come sempre. C'è sì qualcosa di strano, forse ora ci liberano. Vediamo, perché gli alieni non sanno. Ok, via, non abbiamo molto tempo. Ok, 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 ufficiale, ufficiale, ufficiale. Gli alieni sono andati di là, dove dobbiamo andare? Ragazzi, ma io sono con questi tre, ma chi diavolo sono? Troverò un modo... Oh mio Dio, non mi dire che se sbagliamo noi facciamo sbagliare tutto l'evento? Penso di no. C'è Superman caposquadra? Se ci vedono è finita, ok. Siamo con tutti gli altri tizi che non conosco, non so chi sono. Oh mio Dio, ma incontriamo tizi ovunque! Oh mio Dio! Questa roba è fighissima. Vediamo qui che cosa succede, ok? Eravamo partiti in quattro. Se ne sono andati, mi serve un attimo. No, anch'io voglio farlo. Vai Superman! Dai che ci siamo! Pronti per questa... Forza, forza! Ok. Grande, dottoressa Sloan. Fino ad ora sembra che è buona la dottoressa Sloan. Vi vedono attraversate il ponte il più velocemente possibile. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Io vado già come se... So che dobbiamo andare di qua? Ok. Secondo me ci hanno visto. Secondo me ci hanno visto. Ah, ma ci sono anche altri di lì! Oh, occhio, occhio. Oh, 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 no buono, no buono, no buono, no buono. No buono! Oh mio Dio! Siamo all'interno della big nave madre. Nemici davanti? Scappando via? Ma se io resto qua, cosa diavolo succede? Perché non dovrebbe succedere nulla in realtà. Vorrei che però rimango indietro e non posso vedere l'evento. Ok, ok, ok. Tanto non mi possono killare sicuramente al 100%. Io vado indietro, vediamo che cosa succede. Speriamo che non mi perdo tutto l'evento. Salve signore, salve. Sì, sono qui. C'è un tubo di trasporto più avanti. Potrebbe funzionare. C'è un tubo di trasporto? Ok, sta aprendo la porta. Per il momento non è male questo evento. Occhio, ho visto un cubo? Il ritorno del signor Kevin. Ci andiamo da quest'altra parte? Ok, dobbiamo prendere quel tubo. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Tutti con questo zainetto molto particolare. Oh! Oh! Spero non sia un problema. Non è materia organica. Cosa diavolo? Oh! Fermo che mi hanno aiutato. Fermi che qualcuno mi ha aiutato ufficiale. Non so come. Siamo andati all'interno di questi mega tubi. Ma dove stiamo andando? Occhio a questi barilozzoli. Ok, ok, ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Perché quel tizio ha la coroncina rosa qua davanti a me? Non è che è un infiltrato. Ah no, sono i capelli. Sono i capelli ufficiali. Più avanti c'è un altro tubo di trasporto. Più avanti c'è un altro tubo di trasporto. Dobrò invertire il flusso d'aria. Un secondo. Questo alieno. No, sono bloccato. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Inseguiamo tutti quanti. Ma dove ci stanno portando? Cioè, cosa dobbiamo fare? Mi aspettavo tutto tranne che una roba del genere. Qui questo tizio si è fermato. Forse è in combutta. Guardate gli alieni con me. Oh mio Dio, ho fatto benissimo. C'è qualcuno in combutta con me? Attenzione, gli scienziati. Ah no, sono i due tizi. Oh mio Dio, guardate. Oh no. Oh no. Oh no, via, 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 via. Io me ne vado, io me ne vado, io me ne vado. Entrate nei tubi. Destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, sinistra. Andiamo di nuovo. Vi porto... Ok, la sala dei rapimenti. Andiamo a vedere cosa diavolo si tratta. Cosa sono queste cose nere? Ah, ci fanno danno. Però non ho vita, quindi non posso morire. Ok, credo... Ah, perché le bombe in posizione. Credo che siamo arrivati. È la cabina di controllo, penso, ufficiale, dove succede tutto, la cabina dei rapimenti. Le bombe stanno fluttuando per aria. Cosa diavolo è quella roba là sopra? Voi tenete gli zaini vicini alle bombe. Voi tenete gli zaini vicini alle bombe. Ok, ok, dottoressa. Ok, dottoressa. Inizio la sequenza di armamento. Dottoressa? Ci dà lei il segnale? Dottoressa? Dottoressa? Oh, oh, le bombe partono. Le bombe... Il segnale è interrotto. È successo qualcosa. Occhio al cubo. Penserò qualcosa. Penserò qualcosa. Non morite. Non morite. Ma chi vuole morire, dottoressa? Ve l'ha detto. Occhio al cubo. Oh, mio Dio. Possibile. Questo è impossibile? Che vuol dire questo è possibile? Let's go, mister. L'ultima volta quasi distrutto l'isola. Oh, e allora un cubo alieno ufficiale è di questi alieni. Oh, mio Dio. È il ritorno di Kevinino. È il ritorno di Kevinino ufficiale. È più grosso del solito? È più grande o sbaglio? È più grande o sbaglio? Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Mister Cubos Kevin. It's back again. Cosa? Diavolo. Vuol dire tutto questo, però? Signori miei? Signori miei occhio. A chi l'ha da uno? Dobbiamo agire con forza e all'interno. A chi l'ha da uno, regà? A chi l'ha da uno? No, 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 no. Non pensavo si potesse morire all'interno di un evento. Un è morto ufficiale, eh? Uno. Oh, mio Dio. No, no, no. Fermi, fermi, fermi. Questa cosa. Tenetevi forte. Ma sono morti dei playerini, regà? Quei tizzi non vedono l'evento. Oh. Oddio. Grazie ai nostri zaini è successo qualcosa. Dobbiamo armare con le bombe ora. Si sta caricando qualcosa dietro il nostro zaino. Oh, mio Dio. Il cubo nero è bellissimo, signori. Chissà, vediamo un black. Ok. Bombe in due minuti e quaranta. Ok, dottoressa. È tutto nelle due mani. Quindi noi moriremo qui? Questo che c'è detto? Dottoressa. Occhio, occhio al cubo. Occhio. Non voglio morire. Ma, ragazzi. Ragazzi, giratevi. È qui lo spettacolo. Ragazzi. Ma c'è il cubo. Ma qualcuno lo vuole vedere questo cubo? Ragazzi, c'è un mega cubo pulsante di bianco. Era nero, è stato diventato bianco. Ma vi volete girare? Cosa diamo? Riavvia? Oh, mio Dio. Siamo tutti a favore di Kevin? Siamo tutti... Oh, mio Dio. Cosa succede? Cos'è successo? Abbiamo riavviato il cubo? Cosa vuol dire? Oddio. Da questa parte le bombe stanno per esplodere e distruggere, credo, la nave aliena con noi anche al suo interno. Da quest'altra c'è il cubo Kevin che... Cioè, l'ex cubo Kevin. Un cubo celestino. Un cubo angelico. Occhio. Noi usciamo da qualche parte. Signori? Signori, era previsto tutto ciò? Dottoressa? C'è qualcuno? Qualcuno mi sente? No, perché sono un po' in agitazione. Sapete com'è? Siamo da fuori dove andiamo? Andiamo nello spazio! Andiamo nello... E noi moriamo senza mask. Come facciamo a respirare? Oh, no. Oh, no. Siamo ancora all'interno della nave madre? Sì, perché lì ci sono i rapidori. Oh! Salve, rapidore! Sa... Ok. Buono, buono. Passa sopra di noi senza vederci. Sembra, ma non so come fa a non vedere un mattone gigantesco che sta pulsando di luce propria. Partendo fuori... Oh! Oh! Oh mio Dio! Non è l'unico cubo. Cosa diavolo? Sono un'infinità di cose cubose. Questi sono alberi cubici. Oh, gli alberi di Minecraft. Cosa diavolo? Oh! Esplosione mega? Sta esplodendo tutto? Sono esplose ufficialmente le mine? Oh, no. Non voglio morire, non voglio morire. Ragazzi? Dottoressa? Questo è il flash di John. No, no, no. Non è affatto il flash di John. Dove andiamo? Isola! Ok, possiamo giocare. Possiamo continuare a giocare? Si sta distruggendo. Laggiù! Si è distrutto qualcosa? Oh mio Dio! Perdiamo pezzi dell'isola. Che cosa diavolo è questo cubo celeste? Ok. Il nostro compito... Si è andato a buon fine, credo. Cioè, la navicella, la mega nave madre aliena sta... Se no piano... Distruggendosi. Ma io voglio sapere cosa diavolo è quel cubo celeste. Abbiamo preso Intaface, ovviamente, una navettina. Occhio! Secondo me è ora flash di John. Non mi dite che è finito l'evento! No! Ah! Ah! No! 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 Ma che diavolo è? Ma perché? È stato... Non lo so nemmeno com'è stato carino. Non abbiamo fatto tanto. Una bella animazione. Ma ci sono una marea di segreti. Non abbiamo visto John. Non abbiamo visto i flash. Non abbiamo visto Fondazione. Non abbiamo visto il continuo di niente. Che sicuramente continuerà. Spero. All'interno della season 8. Che mi dà. Che esce tra 12 ore. Facendo un rapido... Ma 12 ore! Signori! 12 ore! Se non sbaglio! Sono le 22! Ma mettiamo che è mezzanotte. 12 ore vuol dire mezzogiorno di lunedì. Cioè il giorno in cui voi state vedendo questo video? Occhio che potrebbe essere interessante. Non ci lasciano un giorno senza far nulla. Esci? Vuoi uscire da Fortnite? Assolutamente no. Io me ne rimango all'interno di questa schermata. Non si sa mai. Ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti la vostra idea. Se vi è piaciuto o non vi è piaciuto questo evento. A me sinceramente non è che mi sia piaciuto tantissimo. Ecco, una bella animazione. Però non abbiamo potuto fare niente. Non si è capito nulla. Cioè abbiamo distrutto la nave madre. Ci sa e tutto quanto. Ma ci sono una serie di cubi viola dispersi per la mappa. E c'è quel cubo celeste che è la cosa più interessante in assoluto. Speriamo che all'interno della season 8 ci venga svelato tutto quanto. E soprattutto sia una bella season. Noi ci vediamo, spero prestissimo, con un altro video. Spero di aver fatto i calcoli per bene. Ma credo proprio di sì che oggi, nel pomeriggio, possiamo già giocare. Noi ci vediamo tra poco con un altro video. E... Le strane.